Ciao cari ascoltatori, lascia un commento, come valutare il cantante Dimash? Giovane e già ricco è, se non, un uomo di sogni, dove un affascinante, avvolto, scosso come un dio, una voce baciata da dio, una faccia baciata da un angelo. Nel mio cuore, il piccolo Dimash è un ottimo cantante, il suo talento è diverso, il suo tono e la sua gamma sono incredibili. Questa è la base e il fatto. Nessuno può coprire o distruggere. Forse, come cantante e musicista, la sua espressione emotiva non è abbastanza ricca e non abbastanza delicata da impressionare tutti, o continua a dimostrare la sua altezza e anche le cosiddette abilità abbaglianti. Le persone a cui piace piace ancora, può ancora essere toccato dal suo temperamento brillante e dall'atmosfera dei non morti. Come persona che è stata toccata dalla luce di Dimash, sono stato in grado di assorbire nuova energia nelle sue performance e canzoni, toccare le sue emozioni, gioire della sua felicità e risuonare la coscienza a differenze soggettive. L'esperienza di ciascuno è diversa dalla diversa coscienza ideologica. Pertanto, ci sono molte persone che possono toccarti e potrebbero non coincidere. Forse Dimash non può farti toccare, anche se non ti piace, come esprimere la tua. È tuo diritto sentire che è un tuo diritto, ma è irragionevole imporre i tuoi valori agli altri o è troppo impegnativo. Dimash è solo un cantante, un musicista e ora un artista. Fa la sua musica preferita, fa quello che l'artista deve fare, è abituato a fare i bagagli, questa è la sua scelta. Nessuno di noi può fare una scelta per lui, basta guardare. Quindi le persone a cui piace, continua a sostenerlo per fidarsi di lui. Quelli che sono toccati da lui e ottengono forza da lui, per favore continuano ad aspettarsi che cambierà e crescerà costantemente, persone che non gli piacciono, ti preghiamo di rispettarlo, di essere amichevole e obiettivo. Proponi i tuoi suggerimenti sulle critiche o vai dritto. Non agitarti, non esagerare e non interferire nella sua vita personale. Questo non è solo per Dimash, ma anche per tutti i personaggi pubblici che fanno grandi e ottimi sforzi. Dopo questi pochi mesi, affronto le pressioni quotidiane di scienziati, concorrenti e vita. Nel formare e sviluppare questi tre punti di vista, accetto costantemente ogni tipo di informazione e traggo forza spirituale. Apprezzo ancora l'aspetto di Dimash e della sua musica. Non voglio che lui senta il sostegno di me e il mio piccolo sostegno. Spero solo che quando è confuso o imbarazzato, possa conoscere la propria esistenza e trasmettere a migliaia di persone. Avendo raggiunto la felicità e la forza, merita gli applausi e deve continuare a progredire e adempiere ai doveri di cantante e personaggio pubblico, il che è abbastanza. Infine, caro Dimash, per favore diventa sempre meglio. Per te stesso e per coloro che ti amano, come me, tutti sostengono silenziosamente coloro che lo amano. Non importa quanto sia dura e difficile la tua vita, devi perseverare e fare sempre meglio. Spero che questi sentimenti possano raccontare un piccolo pensiero nel tuo cuore e Dimash può aiutare un po' Fin dalla prima volta che ho ascoltato il suo canto, ho creduto che fosse Dio a volergli fare musica. Non è esagerato dire che è un genio. Ho sempre apprezzato il dolce piacere della benedizione non solo per il suo alto e bello, ma anche per la sua brillante sessualità e inferiorità, giovane e già ricco. Questo non è il sogno di un uomo, prendendo in prestito le parole, Irina, Adler. Allo stesso modo, Dimash è un tale genio che non può essere vivo, e sessuale. Alla fine, ha vinto così tanti premi, ha ricevuto riconoscimenti internazionali e sembra così bello. Altezza, 191 M. Dimash. Questo tipo di persona creata da Taisu è solo una grande benedizione di un cantante. Ma Dimash non è la stessa cosa del volume. Può integrarsi in questa situazione sociale e non vive nel suo piccolo spazio, quindi Dimash può apprezzare e persino toccare ciò che vediamo e la sua musica. Anche se la lingua è ingiustificata o non siamo completamente comprendiamo i limiti professionali, toccheremo la sua mente e l'anima sensibili attraverso la musica. Dopo aver ascoltato l'aiuto di una persona triste, ho sentito che il mio umore non riusciva a calmarmi a lungo, e a volte ero così eccitato quando ero depresso. Nella voce di questo genio, un uomo di un sogno deve avere una sorta di magia, simile all'oscurità, e dopo averlo ascoltato, il mio cuore è stato scavato. Cantava opera 2, ed era facile tornare. Sebbene non corrispondesse, le emozioni espresse nella canzone originale, molti spettatori hanno detto che questa è una grande abilità, ma in realtà, non ha intenzione di chiedere al produttore musicale, chiedergli di scegliere una canzone del genere e alzare la chiave. Indubbiamente, la gamma di Dimasha è ancora più ampia di quella di Vitas, la canzone è molto piena e il suo stesso genio. Il personaggio del piccolo principe è molto personale, ho ascoltato questa canzone più di dieci volte. Questa è una benedizione, Dimasha. Non penso ci sia nulla da guardare. È molto normale amare Dimash. Alla fine, questo è troppo attraente. Ma, essendo superficialmente esperto da un fan interno, spero ancora che tutti coloro che amano Dimash non lo vogliano. Ha fatto commenti eccessivi, come danni cerebrali, e si è prudentemente messo in relazione con tutto ciò che connesso con lui, gli piace proteggerlo e supportarlo in modo che possa svilupparsi e crescere meglio. Il primo Sorrof or Sorrof di Dimasha è molto più sorprendente della seconda opera. A prima vista, ha visto il suo stile. Anche se era una magnifica bellezza, la televisione satellitare di Unan sollevava la sua frangia e indossava grandi. Era una fanne sfegatata, ma la sua opera aprì l'apertura. scioccato, questa è una specie di fantasma dell'opera, che è la vista, il cuore di tutta la persona non può essere corretto, specialmente la triste tristezza dei testi, basta guardare la traduzione francese qui sotto, è stata spostata. Che musica elettronica popolare è dietro, non l'ho ascoltata affatto, e la voce dell'angelo di Mai mi ha girato la testa. Bene, quanto sopra è la prima sensazione di un fan. Faccia seria, ad essere sinceri, l'opera di Dimasha è aumentata di 3 gradi, dicendo che è una combinazione di suoni bellissimi, ma non c'è originalità Vitas, sebbene possa essere pulita liberamente. Vengono aggiunti diversi strumenti, ma non c'è Vitas, che è semplice. Il più semplice è spesso il più attitudine. Dal giorno in cui ho scoperto l'opera Vitas, ho avuto un accompagnamento di una volta. Per fare un paragone con il Dimash, l'ho ascoltato diverse volte. Come sveglia, in una mattina fredda e nuvolosa, è aspro e fresco. Disturbo ossessivo compulsivo, ma il suo aiuto a una persona triste, è davvero bello. Punto esclamativo Inoltre, Dimash ha un carattere e un temperamento molto puri. Ma nel suo sorriso non esiste una rete rossa di produzione seriale in forma di stella. Vulgarizzazione, ma il pieno, cantante e lirico, il volto e la voce di un angelo, gli occhi e le orecchie sono presi da Dio. Inoltre, lo standard internazionale della musica elettronica classica pop speak, classico Classico, spero che tu possa guadagnare Dimash dal nome di Dimash, le tue dita sono molto belle, un altro, ad esempio, non ho mai elogiato la lode degli altri, la tua voce è molto nobile, Dio bacia l'angelo, bambino metti le dita. Certamente, l'insegnante Deci attrae più del suo umorismo e della sua intelligenza, della sua coltivazione e del suo talento interiore. Questo è ciò che ci fa davvero pensare che Reason rimanga con lui tutto il tempo. Ad esempio, puoi sempre vedere il suo rispetto per tutti tra i suoi gesti, ognuna delle sue firme qui sotto sarà messa in un Dimash sincero e completo nel suo lavoro proprio come gli uomini non scoppiano mai sulla musica. Ogni sforzo è fatto. Ci saranno sempre idee, musica, questa è la sua vita. Non dimenticherà, non importa quanto lontano si allontani, la cultura di promuovere la sua nazione rimarrà seria, non importa quanto sia alta, di apostrofo, tutto ciò che ho è per te. Se vuoi riassumerlo in una frase, deve essere, cole follia sul palco, e carino piccolo tra il pubblico. Se ti piace la sua canzone, ricorda il concerto, non ti pentirai di ascoltare la sua scena. Cari ascoltatori, lasciate un commento.